Censimento dei Rom di Maio profili di incostituzionalità Donald Trump torna alla carica attaccando Europa e immigrati Al via da domani gli esami di maturità inizia il tototraccia tra gli studenti Mondiali di calcio vincono Belgio e Inghilterra, oggi torna in campo la Russia Buongiorno e ben ritrovati dal Tg di Reporter Nuovo, un saluto da Federica Del Zotto e Valerio Di Fonso E cominciamo con la politica italiana, servirebbe un'anagrafe dei Rom, ha dichiarato ieri Salvini su Tele Lombardia Il ministro dell'Interno si è poi rammaricato di non poter espellere i Rom italiani Una delle risposte più dure arriva dal direttore del Tg di La Sette, Enrico Mentana Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Tito Borsa Mi sto facendo preparare al Ministero degli Interni un dossier sulla situazione Rom in Italia Mi sto facendo fare una ricognizione della situazione Rom in giro per l'Italia Per vedere chi, come e quanti Eccolo qua Non sono Batman, però vedremo di capire come si può intervenire rifacendo quello che all'epoca venne chiamato censimento Apriti cielo e chiamiamola l'anagrafe, chiamiamola una situazione, una fotografia per capire di che cosa stiamo parlando I Rom italiani, purtroppo ti devi tenere in Italia perché non li puoi espellere Le dichiarazioni di Matteo Salvini a Tele Lombardia hanno scatenato una polemica talmente aspera da costringere una parziale retromarcia Il ministro nel pomeriggio di ieri ha affidato la mezza smentita a giornali e agenzie Dichiarando che si tratterebbe di una verifica solo sui campi nomadi Escludendo quindi un censimento dell'intera popolazione Rom La proposta di Salvini aveva causato malumore anche all'interno della maggioranza di governo Con l'altro vicepremier Luigi Di Maio pronto a ricordare l'incostituzionalità di un censimento su base etnica In effetti, secondo le parole del ministro dell'interno in tv Si tratterebbe di una misura ad hoc che riguarderebbe la popolazione Rom Indipendentemente dalla nazionalità dei diretti interessati Che molto spesso hanno cittadinanza italiana Un trattamento diverso sulla base di un elemento tutt'altro che oggettivo come l'etnia E in contrasto con i dettami di uguaglianza sanciti dalla Costituzione Alla proposta di Salvini ha risposto tra gli altri in modo durissimo anche il direttore del Tg Lassette Enrico Mentana Durante la puntata di ieri sera Sono molti gli italiani che hanno avuto problemi con una porzione della popolazione Rom Quella è una parte, è un aspetto della questione Il fatto è che la Costituzione, la nostra carta costituzionale Su questo è chiarissima Ebbene ha fatto questa sera il parlamentare del Movimento 5 Stelle Nicola Morra a citarlo Non ci possono essere differenze per nessuno Voglio solo ricordare a tutti noi che in Italia 80 anni fa si cominciò a schedare Vi voglio fare vedere un'immagine, soltanto un'immagine, una fotografia La fotografia, eccola, di una denuncia di appartenenza alla razza ebraica Su richiesta dell'Italia vogliamo aiutare mettendoci in gioco con la nostra solidarietà Perché la solidarietà in Europa è una questione primaria per la Germania Sono le parole della cancelliera tedesca Angela Merkel che ha incontrato a Berlino il presidente del Consiglio Giuseppe Conte Al centro del colloquio è il tema dei migranti con Conte che ha ribadito di non poter sostenere da solo L'arrivo di altri migranti Per il Premier servono soluzioni europee o si rischia di finire Schengen Bambini rinchiusi giorno e notte in gambie metalliche e sorvegliati da guardie armate Questa è la situazione denunciata da alcuni politici americani A seguito della loro visita in uno dei centri di detenzione per minorenni in Texas Ai confini con il Messico Tra critiche internazionali ed interne Donald Trump però è tornato alla carica attaccando migranti ed Europa Il servizio di Salvatore Gabriele Imperiale Bambini rinchiusi giorno e notte in gambie metalliche Tenuti sotto stretta sorveglianza da agenti armati in attesa di conoscere il proprio futuro Unici beni ricevuti, bottiglie d'acqua, coperte termiche e patatine Questa è la drammatica situazione denunciata da un gruppo di politici americani E da alcuni attivisti dell'Associated Press Che la scorsa domenica hanno visitato uno dei centri di detenzione per minori in Texas La pratica di separare i minorenni messicani dai propri genitori, secondo le stime Ha coinvolto solo nelle ultime sei settimane oltre 2000 minori Come se non bastasse, sempre l'Associated Press ha diffuso un video dei toni drammatici In cui un piccolo bambino chiama il padre mentre viene portato via dagli agenti Il caso minorenni, oltre ad aver fatto il giro del mondo, ha scatenato critiche e denunce Nei confronti del presidente degli Stati Uniti Il segretario generale ONU, Antonio Gutierrez, ha protestato ufficialmente per l'atteggiamento statunitense Ricordando che i bambini non devono essere traumatizzati dividendoli dai genitori E che l'unità delle famiglie deve essere preservata Partendo da Melina Trump per finire all'ex First Lady, Laura Bushy, Larry Clinton e Michelle Obama Sono arrivate aspre critiche verso la linea del presidente E ieri a New Orleans decine di persone hanno manifestato all'esterno del Convention Center Scandendo gli slogan Liberare i bambini, riunite le famiglie In controtendenza il segretario della sicurezza USA, Kristen Nielsen Che ha difeso il presidente dicendo che anche le amministrazioni Bush e Obama hanno separato le famiglie di immigrati Nel frattempo Trump corre ai ripari Ieri ha aperto un nuovo fronte, lanciando bordate contro l'Europa di Angela Merkel Rea di aver accolto milioni di clandestini che ne hanno distrutto l'economia E ha giustificato l'azione voluta dal suo governo Dicendo che i bambini sono stati da alcuni dei peggiori criminali sulla terra per entrare nel paese Mentre la partita sui minori messicani rimane aperta I clandestini continuano ad arrivare sui confini E la situazione si fa sempre più grave 4 morti e 300 feriti sono il bilancio del terremoto di magnitudo 6.1 Che ha colpito all'ora di punta alle ore 8 del mattino la seconda più popolosa area metropolitana del Giappone Che include le città di Osaka, Kyoto e Yogo Si è trattato del sisma più forte registrato nel sud ovest del Giappone dal terremoto di Kobe del 1995 Quando morirono oltre 6.400 persone L'intensità della scossa, secondo i sismologi, è stata più alta del previsto Per via dell'epicentro ad appena 13 km di profondità a nord della città Per alcune ore sono stati interrotti anche tutti i collegamenti aerei e ferroviari E ora veniamo alla maturità Domani gli studenti delle scuole superiori dovranno affrontare la prima prova scritta dell'esame di maturità Tra le tracce papabili della letteratura italiana, Pirandello, il Movimento Futurista e Foscolo Francesco Teodori Al via domani gli esami di maturità per circa 500.000 studenti delle scuole superiori Si parte con la prima prova di italiano ed è già iniziato il consueto Toto Traccia Tra gli autori della letteratura italiana i più probabili sembrano essere, al momento, Pirandello e Foscolo Oltre a Moravia, ormai ogni presente in ogni ipotesi di traccia Tra i nomi meno probabili, invece, Magris e Filippo Tommaso Marinetti L'inventore del Movimento Futurista è particolarmente temuto dagli studenti Che al suo posto, stando agli ultimi sondaggi, vorrebbero vedere magari scrittori più giovani come Alessandro D'Avenia o Baricco Le novità di quest'anno riguardano anche i costi di preparazione alla maturità Uno studente su dieci afferma che spenderà più di 750 euro tra ripetizioni e lezioni private last minute Nuove regole arrivano dal Ministero dell'Istruzione sull'uso di tablet e cellulari Assolutamente proibiti durante tutte le prove d'esame Già si conoscono le date della seconda prova scritta, 21 giugno, ed è la terza che dovrebbe tenersi il 25 Ai maturandi è arrivato l'augurio di buon esame dai maggiori esponenti politici attraverso i social Nell'ambito dell'inchiesta sullo stadio della Roma, Virginia Raggi è stata nuovamente convocata in procura La sindaca di Roma era già stata ascoltata in qualità di testimone venerdì scorso Nei prossimi giorni gli inquirenti consegneranno ulteriore materiale investigativo Che potrebbe fornire nuovi elementi sul sistema Parnasi In particolar modo sul modus con cui era stata finanziata la politica E sul ruolo di Luca Lanzalone, consulente di fatto dell'amministrazione capitolina Guidata dalla Raggi nella trattativa sul progetto per lo stadio Intanto il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha tenuto a precisare Lanzalone lo ha scelto la sindaca da Raggi, lo abbiamo presentato sia io che Riccardo Fraccaro Accogliere, proteggere, promuovere e integrare Sono i quattro verbi scelti da Papa Francesco per la 104esima giornata internazionale del migrante e del rifugiato Che si celebra domenica 14 gennaio alle ore 10 con la celebrazione eucaristica nella Basilica di San Pietro Il Pontefice ha evidenziato che questa giornata cade nel vivo delle consultazioni dei governi Per un patto mondiale sui rifugiati che ha tra gli obiettivi quello di una migrazione sicura Auspico che gli stai coinvolti raggiungano un'intesa per assicurare responsabilità e umanità La protezione è a chi è costretto a lasciare il proprio paese E' stato questo l'appello di Papa Francesco E veniamo all'economia L'Istat registra un parziale recupero ad aprile della produzione nel settore delle costruzioni Dopo le forti flessioni congiunturali registrate nei due mesi precedenti L'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni aumenta del 2,5% rispetto al mese precedente E su base annua c'è stata una crescita del 3,3% per l'indice corretto per gli effetti di calendario Più 7% per l'indice grezzo Su questi dati tendenziali incide il confronto con il dato particolarmente contenuto dell'aprile 2017 E veniamo allo spettacolo Continua il successo del film Il gladiatore Ridley Scott dichiarò un anno fa la possibilità di dirigere un sequel E di averne già parlato con le case cinematografiche Avendo anche il parere positivo di Russell Crowe In attesa di conferme riviviamo le emozioni della trasposizione al Circo Massimo Del film con la colonna sonora live eseguita dall'Orchestra Italiana del Cinema Il servizio di Fabrizio Grasso Metti insieme Russell Crowe La proiezione del film Il gladiatore su uno schermo di 250 metri quadri Un'orchestra di oltre 200 elementi e il Circo Massimo Il risultato di questa particolare somma è stato ammirato da migliaia di persone Nelle date dell'8 e 9 giugno L'Orchestra Italiana del Cinema ha infatti riproposto l'intero film di Ridley Scott Con la colonna sonora live A dirigere il tutto la bacchetta del compositore californiano Justin Freer Accompagnato dalla splendida voce di Lisa Gerrard Autrice insieme a Hans Zimmer dei brani che accompagnano la storia di Massimo Decimo Meridio Ospite speciale della serata l'attore premio Oscar Russell Crowe Io sono al servizio dell'uomo Ciò che facciamo in vita Mi chiede nell'eternità Una cornice d'eccezione offerta dal Circo Massimo e dal gruppo storico romano Che ha colorato la platea con i costumi dell'epoca perfettamente riproposti di danzatrici e gladiatori Armature antiche si sono così mescolate a vestiti eleganti di signore e signori Che hanno assistito allo spettacolo Un lavoro durato tre anni Che grazie all'impegno e la determinazione dell'orchestra italiana del cinema E del suo presidente Marco Patrignani Ha restituito splendore ad una pellicola vecchia di 18 anni Vissato il successo del 6 giugno al Colosseo Dove lo spettacolo ha diempiuto al suo scopo principale Devolvere il ricavato in beneficenza per combattere la poliomielite nel mondo Massimo Decimo Meridio è tornato a Roma E il suo operato riecheggia ancora nell'eternità XXX Tentation Uno degli artisti più popolari della scena rapper americana È stato ucciso in Florida a colpi di pistola Il rapper ventenne è stato raggiunto da alcuni proiettili Mentre usciva da un concessionario di motociclette Forse vittima di una tentata rapina A sparare, secondo una prima ricostruzione dello sceriffo Sarebbero stati due uomini armati Fuggiti successivamente su un SUV XXX Tentation è deceduto durante il trasporto in ospedale Presentato a Roma nella cornice del chiostro del Bramante La nuova stagione di Sei in un paese meraviglioso Il programma di Skyarte e Autostrade per l'Italia Racconterà in 18 puntate le bellezze artistiche e storiche della nostra penisola Da Venezia a Roma passando per Milano Vediamo il servizio di Giovanni Sofia e Fabrizio Grasso Un pizzico di riverenza, una spolverata di comicità e un tocco di sensualità Sono questi gli ingredienti della pozione magica targata Skyarte e Autostrade per l'Italia Sei in un paese meraviglioso Giunto alla quarta stagione parte stasera con la prima di 18 puntate Si inizia dalla Val d'Orcia per arrivare alle Dolomiti passando per Venezia, Milano e Roma 18 step per attraversare lungo e largo la nostra penisola Accompagnati da una nuova coppia Dario Vergassola, veterano del programma, sarà infatti quest'anno affiancato dalla bellissima Roberta Morise Showgirl, presentatrice, la giovane calabrese e pronta a questa nuova sfida Mi definisco un po' una zingara, una zingara felice E una gypsy allegra diciamo Sempre con la valigia in mano, però felice Mi vedete sono in splendida forma nel senso che raggianti Non al di là del... non mi faccio i complimenti Però va alla grande Giriamo l'Italia lungo e largo Mi piacerebbe che Autostrade per l'Italia arrivasse fino alla mia terra Sempre il riverente Dario Vergassola Il comico ligure si è detto soddisfatto del feeling creatosi con Roberta Morise C'è una nuova partner che è questa fantastica Morona Che attira i camionisti nell'area di servizio Le attira i camionisti e io gli porto delle foto meravigliose di City Unesco Quindi diciamo che è una trappola che facciamo In realtà lei mi tacchinava da anni, io ho sempre detto di no Poi a volte si cede perché sei invecchiaia I resti a qualcuno bisogna darli Appuntamento su Sky Art per attraversare l'Italia Scoprirne pregi e meraviglie Si viaggia in auto, non ci sarà il tappeto volante di Aladin Ma la magia della pozione culturale farà viaggiare la mente il cuore di tutti i cittadini Per l'orgoglio di essere italiani Per me la gente è abituata a fare delle cose anche rapidi e veloci Anche sessualmente parlo di me Quindi un po' di cazzeggio, un po' di ironia Qualcosa di da seria È un buon mix per diciamo non far stufare nessuno Mentre guardi una roba la scuola non la vuoi vedere E ora veniamo allo sport Occhi puntati sui mondiali Buona la prima per Belgio e Inghilterra Stasera torna in scena la Russia padrona di casa contro l'Egitto di Salah Il servizio di Luca Zanini Nella quinta giornata del Mondiale di Russia 2018 Non deludono le big del gruppo G Belgio e Inghilterra Che vincono la loro prima partita rispettivamente contro Panama e Tunisia I diavoli rossi si impongono per 3-0 contro la cenerentola di questo mondiale La piccola ma guerrita Panama Un gol capolavoro del calciatore del Napoli Dries Mertens Sblocca il risultato soltanto nel secondo tempo Poi ci pensa il centravanti del Manchester United Romelu Lukaku a chiudere i conti con una doppietta Il match serale invece ha visto scontrarsi Tunisia e Inghilterra Apre le danze al decimo minuto l'uragano Harry Kane Con un gol di rapina sulla rispinta del portiere tunisino Hassan Poi i nordafricani pareggiano su rigore E la partita rimane bloccata per tutto il secondo tempo Al 91esimo però la risolve sempre lui Harry Kane Con un colpo di testa sui sviluppi di un calcio d'angolo Oggi alle 14 si gioca a Colombia-Giappone Mentre alle 17 il turno della Polonia contro il Senegal In serata al Krestovski Stadium di San Pietroburgo Torna in scena la Russia Che dopo l'esordio vincente contro la Rebbe Saudita Se la dovrà vedere contro l'Egitto guidato dalla stella del Liverpool Mohamed Salah In palio un biglietto di sola andata per gli ottavi di finale E questo era l'ultimo servizio Vi ringraziamo per l'attenzione Un ringraziamento speciale alla regia Un saluto da Federica Del Zotto E Valerio Difonso Continuate a seguirci su reporternuovo.it Un saluto da Federica Del Zotto